Voto favorevole sulle emozioni che impegnano il Governo a promuovere nelle competenti sedi internazionali ogni iniziativa volta al formale riconoscimento del genocidio del popolo yasida, ad assicurare i responsabili alla giurisdizione della Corte Penale Internazionale, ad adoperarsi di intesa con gli altri Paesi dell'Unione Europea per far cessare ogni violenza nei confronti del popolo yasida, ad assumere iniziative per realizzare corridoi umanitari per favorire l'arrivo di aiuti internazionali a sostegno della popolazione civile colpita dalla violenza, a soccorrere attraverso specifiche iniziative di assistenza umanitaria e sanitaria le vittime della violenza, di farlo velocemente e possibilmente adesso. Grazie. Grazie a lei. Adesso il collega Borghesi. Prego. Grazie Presidente. Raramente si è riscontrata in quest'Aula una simile convergenza politica tra i gruppi su una questione che concerne un indirizzo di politica internazionale da dare al nostro esecutivo. La persecuzione degli yazidi è in realtà un fatto piuttosto antico, che si lega all'intolleranza da sempre manifestata dalle maggiori articolazioni dell'Islam nei confronti di ogni forma di sincretismo religioso. Se quanto è loro accaduto è diventato finalmente di dominio pubblico, questo lo dobbiamo alle incredibili violenze di cui si sono macchiati i sostenitori del Daesh nei loro confronti, uccidendo brutalmente migliaia di uomini e condannando alla schiavitù sessuale migliaia di donne, anche se il numero esatto delle vittime del califo è controverso, in quanto gli yazidi ritengono sottostimate le cifre accettate dalle organizzazioni internazionali. Siamo dei vittori anche nei confronti dei maggiori media, che sono riusciti a mostrarci e raccontarci il loro dramma. La situazione degli yazidi continua ad essere critica e soprattutto incerta, malgrado molti di loro siano stati finalmente salvati. Non pochi di loro si siano uniti alla guerriglia kurda che combatte contro il Daesh e le stesse sorti dello Stato islamico siano con il tempo andati incontro ad un netto deterioramento, particolarmente da qualche mese a questa parte. Le stime sul numero di coloro che sono rimasti in prossimità delle proprie terre sono fluttuanti, ma si parla comunque di due o trecentomila persone che dovrebbero essere assistite e protette, non solo da ritorni di fiamma del Daesh, ma anche dalle possibili iniziative ostile che altri gruppi jihadisti potrebbero assumere nei loro confronti. Siamo quindi fondamentalmente d'accordo, con quarto concordamente chiedono le mozioni depositate in questa Assemblea che ci accingiamo a votare. Ci va bene, infatti, che il nostro Governo spinga nella direzione di questo riconoscimento ovunque questo sia utile, dall'Unione Europea al Palazzo di Vetero. Ma mentre come Lega Nord approviamo questo cambio di passo con convinzione, non possiamo non rilevare come i testi sottoposti al nostro esame trascurino la situazione non meno triste in cui versano altre minoranze, che sono forse riuscite in parte a tutelarsi solo perché esistono elevanti interlocutori politici e militari, ancora disponibili ad assicurare loro un'adeguata protezione. Parliamo dei cristiani, che sono stati accomunati agli yazidi dalla propria esposizione alla medesima intolleranza, e non solo in questa turbolenta stagione che alcune aree del nostro pianeta stanno vivendo, ma anche altre volte in passato. Cogliamo altresì l'occasione offertaci da questo confronto odierno per sottolineare ancora una volta come sia necessario debellare non solo Daesh, ma ogni forma di jihadismo organizzato, senza concessioni ad alcun gruppo, neanche in favore di quelli che oggi ci appaiono utili e gestibili, ma che domani potrebbero rivelarsi efferrati come Al-Qaeda e lo stesso ISIS. Benvenga quindi anche l'impegno da poco ribadito a far partecipare sempre più attivamente il nostro Paese alla lotta contro il califo e la sua banda di malfattori, che sta insanguinando tanto il Medio Oriente quanto le strade delle nostre città. Per tutti questi motivi voteremo a favore delle mozioni oggi scritte all'ordine del giorno, raccomandando però contestualmente al nostro Governo di interpretarla in modo estensivo, in modo da ricomprendervi anche i cristiani. Sarebbe assurdo che proprio noi italiani ce ne disinteressassimo. Grazie. La ringrazio. Adesso la collega Binetti. La collega Binetti. Va bene, andiamo avanti. La collega Martelli. Prego. Grazie. Genocidio, ovvero sistematica distruzione di una popolazione, una stirpe, una razza o una comunità religiosa. Nel 1944 un avvocato ebreo, Raphael Lemkin, cercò di descrivere le politiche naziste di sterminio sistematico, organizzato, pianificato. La distruzione di intere popolazioni con le loro differenti culture, identità, costumi. La distruzione di milioni di vite. Lemkin lo descrisse così, unendo il prefisso Geno, razza, tribù, con il suffisso Cidio, uccidere. 1944-2014, 70 anni dopo.